I ralpicanti non sempre trovano l'utilizzo in un giardino perché chi non ha pareti, chi non ha portici, chi non ha pergole e vuole avere un glicine allora ti pianti un pallo e il glicine è taccato al pallo e ti tiri fuori o la colonna fiorita o l'alberetto fiorito in questo caso la colonna, la pianta nasce con 3-4 tralci, come dicevo prima, a un certo punto dell'anno tagliate ai rami questi muzziconi che rimangono di 10 cm dove c'è il segnato rosso, questi qua aprimo